Quando negli anni trenta del secolo scorso il giovane Don José Maria Escrivà redigeva quello che poi sarebbe diventata la sua opera più famosa, il termine vocazione era per lo più usato in riferimento alla chiamata al sacerdozio o alla vita religiosa. Perciò per sgombrare il campo da equivoci, colui che oggi conosciamo come il santo fondatore dell'opus Dei, decise di intitolare chiamata, nell'originale gli amamento, il capitolo di cammino che tratta di vocazione. Oggigiorno il termine è ampiamente usato in molti ambiti, si parla per esempio comunemente di vocazione professionale. Dunque senza tema di fraintendimenti nel seguito useremo vocazione e chiamata come sinonimi sempre in riferimento a Dio che chiama l'uomo. Come insegna Papa Francesco in un recente messaggio sul tema, per cogliere in profondità il mistero della vocazione che trova in Dio la sua origine ultima, siamo chiamati a purificare il nostro immaginario e il nostro linguaggio religioso, ritrovando la ricchezza e l'equilibrio della narrazione biblica. Fin qui Papa Francesco ed è sui testi della Sacra Scrittura che vorrei meditare nel seguito. Anzitutto è importante ricordare che la vocazione è un elemento essenziale del rapporto tra Dio da una parte e l'uomo nella sua dimensione di popolo dall'altra. Nella Torah il popolo dell'antica alleanza viene denominato Kechal Adonai, convocazione di Dio, assemblea di Dio. Più tardi, 300 anni prima di Cristo, in quella complessa operazione di inculturazione portata a termine ad Alessandria ad Egitto dai leggendari 70, l'espressione venne tradotta in greco come ecclesia tufeu, chiesa di Dio, preservando così nel passaggio dall'ebraico al greco sia l'etimologia della parola sia l'assonanza originaria. Il verbo chiamare è kaleo in greco come kahal in ebraico. Quindi i cristiani della prima comunità cristiana, quella di Gerusalemme della terra santa, si appropriavano dello stesso nome, chiesa di Dio. Infatti si consideravano membri del popolo della nuova alleanza, eredi legittimi delle promesse fatte al popolo dell'antica. Dunque, etimologicamente e dalle origini, la chiesa nel suo insieme si considerava frutto di una chiamata di Dio, composta da uomini e donne che rispondono positivamente a una comune vocazione, la vocazione battesimale. All'interno della comune vocazione cristiana, però, Dio ha una vocazione o progetto specifici su ciascuno e ciascuna. Ognuno di noi può applicare quest'idea alla propria storia personale, io lo faccio per me. Anzi, potrà ritornare periodicamente a meditarvi con frutto. Nella mia vita, che cosa mi ha chiesto il Signore fino ad oggi? Che cosa mi potrebbe chiedere in futuro? E soprattutto, che cosa mi chiede adesso? Infatti, per usare un'espressione nota, il passato è storia, il futuro è mistero, ma il presente è un dono. Alcune espressioni delle lettere di San Paolo Apostolo ci possono servire da riferimento e da spunto di esame per proseguire la nostra meditazione. Questo progetto vocazionale, all'inizio, è quasi sconosciuto all'interessato o all'interessata e conserverà sempre un carattere di mistero. Ci rassicura però sapere che è preordinato da Dio. Dalla lettera ai Romani sappiamo che Dio chiama quelli che ha predestinati e nelle note autobiografiche della lettera ai Galati, Paolo di Tarso dice di essere stato scelto fin dal seno di sua madre e di essere stato chiamato con la grazia di Dio. Questa vocazione specifica, poi, non è, per così dire, una mortificazione delle potenzialità di ognuno di ognuna, ma una chiamata a mettere più pienamente in atto queste potenzialità. A proposito della vocazione di Abramo, il capitolo quarto della lettera ai Romani definisce Dio come colui che dà vita ai morti e chiama all'essere le cose che non sono. Egli non ci chiede di essere di meno di ciò che siamo, ma ci chiama ad essere di più di ciò che ora siamo. Ci chiama a trar fuori il meglio di noi stessi. Con un'avvertenza, però, se la chiamata è a essere e operare di più, essa non deve tuttavia comportare turbamento e agitazione, ma deve donare la pace. Dio ci chiama alla pace e a rimanere nella pace. La vocazione è alla pace, come ripete più volte l'Apostolo Paolo. Per esempio, scrivendo ai Corinzi circa le discordie o addirittura le divisioni che si verificavano quando uno dei due coniugi abbracciava la fede con le sue esigenze, incontrando l'opposizione dell'altro, rammenta. Dio vi ha chiamati a stare in pace e che ne sai tu, donna, se salverai il marito o che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie. Se una presunta chiamata di Dio ci toglie la pace, ci causa un turbamento che non sia transitorio ma persistente, possiamo tranquillizzarci. Non è la voce di Dio quella che ci ha parlato. In quest'ottica la lettera ai Galati è scritta principalmente per tranquillizzare i cristiani neofiti di quella comunità, turbati da alcuni predicatori, i quali pretendevano di imporre loro le pratiche giudaiche. Queste dottrine, scrive significativamente Paolo, non provengono dal Dio che vi chiama. Scrivendo poi ai cristiani di Colossi, così li esorta. La pace di Cristo regni nei vostri cuori perché a questa pace siete stati chiamati in un solo corpo. La chiamata alla pace è dunque nel contempo anche chiamata alla comunione con gli altri cristiani nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Il concetto è illustrato più volte nella prima lettera ai Corinzi. Degno di fede è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione con il figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. La vocazione specifica di ogni uomo o donna è una chiamata che viene da Dio e che ha come controprova la comunione con Cristo e in lui con gli altri fratelli nella fede. Dio poi non ci chiama per ciò che meritiamo per le nostre opere, non perché siamo particolarmente dotati. All'inizio della lettera ai cristiani di Galazia, Paolo esprime il suo doloroso stupore perché hanno scordato la chiamata per grazia, per volgersi a presunte opere meritorie. Scrive loro, mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro Vangelo. Sempre Paolo di Tarso precisa che fu decisiva la chiamata per grazia, cioè per un dono gratuito, nella scelta tra i due figli di Isacco, Giacobbe a preferenza di Esau. Così lo spiega scrivendo ai Romani. Rebecca ebbe figli da un solo uomo, Isacco, nostro padre. Quando essi non erano ancora nati e nulla avevano fatto di bene o di male, perché rimanesse fermo il disegno divino fondato sull'elezione non in base alle opere ma alla volontà di colui che chiama le fu dichiarato, il maggiore sarà sottomesso al minore. E nel mentre che ci chiama senza nostro merito per pura grazia, ci gratifica, cioè ci dona le capacità per fare ciò che ci chiede, né di meno di ciò che ci chiede, né di più di ciò che ci chiede. La vocazione però non comporta necessariamente un cambiamento di stato. Sempre scrivendo ai Corinzi, l'Apostolo Paolo prescrive, ciascuno, come il Signore gli ha assegnato, continui a vivere com'era quando Dio lo ha chiamato. Così dispongo in tutte le chiese. E dopo aver esemplificato, trattando dello stato matrimoniale, della condizione di circonciso o incirconciso, dello stato sociale di libero o schiavo, ribadisce. Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Letteralmente, in quella vocazione in cui era quando è stato chiamato. Rimane chiaro, d'altronde, che la vocazione cristiana comporta per tutti l'abbandono di pratiche disordinate, un'opera di purificazione che, se non può che essere progressiva nella realizzazione, deve essere però ferma nell'intenzione. Più e più volte l'Apostolo dovette richiamare i battezzati, i quali vivevano in ambienti profondamente impregnati di libertinaggio, a coltivare la virtù della purezza, cui Dio li aveva chiamati. Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, di un'immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani. E sempre nella prima lettera ai Corinzi, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. State lontani dall'impurità. La chiamata alla purezza nelle lettere paoline viene messa in relazione con la chiamata alla santità. Così, nella prima ai Tessalonicesi scrive, questa è volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astegnate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. E poco dopo aggiunge, Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Dio ci chiama alla santità. È in questo contesto che va interpretata anche la chiamata alla libertà cristiana, di cui la lettera ai Galati è documento paradigmatico. Voi fratelli siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutto ciò che è dipendenza, asservimento, clientelismo, incatenamento non proviene da un Dio che è padre e che vuole dei figli, non degli schiavi. Dio ci chiama alla libertà. In conclusione, Dio ci chiama a camminare in maniera degna della vocazione ricevuta. Se qualche proposta, consiglio o suggerimento li reputiamo indegni della chiamata cristiana, dobbiamo avere la fortezza di scollare le mani per rifiutarlo. Ed ecco il richiamo accorato della lettera che San Paolo dirige dal carcere agli Efesini. Io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. Senza pretesa di essere esaustivi, basandoci sulla Sacra Scrittura e in specifico sulle lettere paoline, abbiamo delineato alcuni tratti della vocazione cristiana, concetto che illumina il mistero della relazione tra Dio e l'uomo. San Josemaria, riferendosi al dialogo tra la Vergine di Nazareth e l'Angelo Gabriele, commenta Cerchiamo di capire l'insegnamento che ci viene dalla delicata combinazione di sottomissione e autorità che osserviamo in Maria. La Madonna ascolta con attenzione quello che il Signore le chiede, riflette su quanto non comprende, domanda quello che non sa, poi si dà totalmente al compimento della volontà divina. La risposta alla chiamata divina di Maria Santissima, figlia di Dio padre, madre di Dio figlio e sposa dello Spirito Santo, ispiri il cammino della nostra vocazione. E mentre camminiamo non scordiamoci di pregare gli uni per gli altri e di aiutarci gli uni gli altri. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplica nell'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e, se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale, attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica!